Signori, bentornati in un nuovo video flash. Grandi novità sul fronte Disney. Ebbene, Topolino e compagnia cantante hanno deciso di buttarsi nel mondo dei TCG annunciando l'arrivo di Lorcana, questo il nome del nuovo gioco di carte collezionabili in collaborazione con la Ravensburger, con data di pubblicazione prevista per la seconda metà del 2023. In questo universo vestirete i panni dell'illuminatore, ovvero colui che abita il Grande Illuminario, un luogo dove tutta la magia Disney sarà racchiusa. E così, partendo all'avventura, potrete radunare i vostri personaggi preferiti e sfidare altri giocatori in battaglie spettacolari da vivere fino in fondo. Personalmente non vedo l'ora di vedere su carta il mio antagonista preferito, Ade, anche perché vorrei conoscere anche io chi mi ha spento i capelli. Vedremo in futuro se la Disney riuscirà a conquistare i cuori degli appassionati del settore, come fece in tenera età con i suoi lungometraggi. Tutto è ancora sul piano delle idee e mi auguro che presto, dalla casa americana, inizieranno a far trapelare qualche notizia succulente in più al riguardo. Per maggiori informazioni vi lascerò in descrizione il link all'articolo redatto per Tom's Hardware a cura di Lorenzo Ferrero. Inoltre, volevo ringraziare Claudio Tatoli per avermi fatto arrivare alla notizia. E voi cosa ne pensate di questo nuovo TCG? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.